Aumenta la preoccupazione, la critica e il disappunto perché noi continuiamo a essere ristretti come abbiamo oggi convenuto i sindaci della città metropolitana a Lanci in una gabbia, che è la gabbia di tagli insopportabili, irresponsabili, perché fatti da un governo che dovrebbe puntare su una riforma epocale, invece la sta facendo nascere con le gambe tagliate, mettendo a rischio posti di lavoro, servizi essenziali, costringendoci a gestire in emergenza totale una riforma di questa portata, senza risorse, senza allentamento del patto di stabilità e con ulteriori tagli. Quindi oggi dopo Lanci una nostra delegazione è andata al MEF, dove abbiamo proposto, perché noi non siamo i signori del no, siamo sempre propositivi, abbiamo proposto una via di uscita per rendere meno insopportabili e inaccettabili dei tagli che costringerebbero alcune città metropolitane a non riuscire a fare il bilancio. Quindi immaginate un ente che nasce senza fare il bilancio e quindi l'ente comincia già in una situazione di grave dissesto. Quindi il giudizio permane critico, anzi oggi ho registrato, devo dire, negli interventi di tutti i miei colleghi sindaci una gravissima preoccupazione, un disappunto e anche, devo dire, una sincera e profonda amarezza per come il Governo sta trattando gli enti locali e gli enti di prossimità. Città metropolitane, ma lo stesso discorso vale per i comuni, lo stesso discorso vale per le province non cancellate, per quelle che rimangono. Permane poi una discriminazione, un'ingiustizia assolutamente inaccettabile, irragionevole, sbagliata e in violazione di legge che viene fatta da questa società che si chiama SOSE, questa SPA che lavora per conto del Ministero, che non si comprende per quale motivo fa gravare, in particolare sulla città di Napoli, in modo particolarmente pesante, poi anche sulla città di Roma e poi anche, se in parte minore, su Firenze, soprattutto su Napoli e Roma, ma in particolare il peso, il macigno, per una serie di motivi, è sulla città di Napoli. Quindi in questa ingiustizia c'è la beffa, anche perché Napoli, che che se ne possa pensare, e questo lo voglio sottolineare, è città virtuosa, perché non ha sforato il patto, non ha indebitamenti, ha già una tessazione per colpa del Governo e del Parlamento che ha messo una legge anche assurda all'epoca della 174 a tasse altissime, all'ARC auto molto più alta, invece noi andiamo in questo modo anche a compensare chi ottiene, e di questo ne possiamo anche essere lieti sul piano personale, il non pagamento di sanzioni per aver sforato il patto di stabilità e sono prevalentemente città del Nord. Quindi noi anche da Sud avvertiamo, come dire, l'insopportabilità di una discriminazione all'interno di un comportamento irresponsabile da parte del Governo. Quindi bisogna alzare il livello di lotta all'interno del dialogo. Se il Governo non accoglie le istanze del lancio, a mio avviso si crea una rottura che è difficilmente sanabile. Quindi ci auguriamo che le parole espresse dal Governo e dal Presidente del Consiglio si traducono immediatamente non in impegni ma in provvedimenti di carattere d'urgenza, cioè parlo di un decreto legge o provvedimenti inseriti nel Consiglio dei Ministri e diventino immediatamente legge, altrimenti non ci sono le condizioni per poter andare avanti.